Totale fiducia e che sa fare queste cose. Quindi mi immagino che voi mi sentite. Quindi, Om Shanti e buonasera. Ah, grazie William, me l'hai detto. Ok, allora, stasera l'idea di fare una conferenza sulla reincarnazione. Io onestamente non ho mai fatto una conferenza sulla reincarnazione. Le abbiamo fatte nel passato con delle sorelle maggiori che abbiamo fatto in sala all'epoca, tanti anni fa. Ma riflettendoci su, mi sono reso conto quanto è complesso ed è molto interessante, devo dire, ma sarà una serata decisamente a stimolare l'intelletto piuttosto che a tutto quello che potrebbe essere il sentimento della meditazione, eccetera, eccetera. Cioè, la reincarnazione è una tematica che attira molta gente e ci sono sempre tantissime domande e io ho preso in considerazione le domande e ho cercato di risponderci in accordo a quello che è la comprensione del karma e della reincarnazione. Perché è difficile separare i due, perché se uno non capisce il karma non può capire la reincarnazione, e viceversa. Cioè, se non ci fosse un continuum di conto karmico che noi ci portiamo appresso e che quindi rende la reincarnazione personale e speciale e diverso da tutti gli altri, non potremmo capire, quindi stasera di fatti torna, cioè manco farlo a posto, sono i santi i morti. Insomma, è cascato proprio a pelo, non abbiamo fatto a posto, nessuno ci ha manco pensato. Io mi sono reso conto guardando il calendario, cambiando la pagina, no? E le culture hanno, tante culture hanno atteggiamenti molto diversi verso i morti. Certi festeggiano i morti, come per esempio in Messico festeggiano tranquillamente, fanno dolcetti di zucchero, eccetera, teschi di zucchero per dire, no? Loro lo vedono in modo divertente, ballano, danzano, cantano, eccetera. E poi c'è chi vede la morte come una cosa molto più triste e vanno a comprarsi il crisantemo da portare al cimitero. Insomma, c'è tutta una visione molto forse culturale e molto diversa. Allora, onestamente, chi capisce o crede nella reincarnazione, sono di più al mondo, ci sono di più, più persone al mondo che credono nella reincarnazione, pare, non che chi non ci crede. Perché tutta l'Asia, di fatti, ci crede, l'Asia ha tanta gente, no? La religione cattolica ci credeva a un certo punto, poi hanno cambiato un po' il sistema di quello che ho capito. E quindi non è tanto una cosa che da noi è normale crederci, non viene considerato normale. D'altronde, tanta gente comunque ci crede. E ci crede perché noi non possiamo fare altro che accettare i nostri propri sentimenti, quello che noi sentiamo. E a volte noi abbiamo delle realizzazioni di déjà vu che sappiamo non è di questa vita, per niente. E quindi questo lascia spazio a una domanda, ma veramente ho già esistito, no? E possiamo porsi la domanda. La vita è un continuo, non è che si inizia, si prosegue, si conclude con una vita. In un certo senso sembra un po' illogico fare tutte le esperienze che un'anima potrebbe voler fare in una vita. E forse questo ci stressa, l'idea che dobbiamo rinchiudere in una vita sola tutte le esperienze possibili e immaginabili. Beh, infatti non è veramente necessario perché c'è un'offerta di un'altra vita che ci permette di fare altre esperienze. E' una vita che, o una vita, sono tante vite che si proseguono, è un'esistenza che si prosegue nell'eternità perché l'anima stessa è eterna. E quando si dice così, cioè vuol dire che molte cose alle quali noi abbiamo creduto crollano. Per esempio, se tu sei eterna, di fatti non puoi morire, pure volendo, non puoi. Il corpo muore ma l'anima no. E l'anima chi è? L'anima è quella energia che pensa, che parla, come io sto facendo in questo momento. E l'anima veramente che esiste, ma esiste attraverso un corpo che gli serve da strumento, da veicolo, eccetera. E questo serve per lavorare, per fare, per vivere, per interagire tra di noi. Però non è la vita. Noi tendiamo a pensare che il corpo sia la vita. E' l'anima che è la vita, veramente. E l'anima, quando il corpo non può più proseguire, l'anima continua. E il motivo per la quale è assolutamente impossibile scindere il karma della reincarnazione è che se non si capisce perché dobbiamo reincarnarci in un certo modo. Perché io sono nata in questa famiglia, perché sto facendo certe cose, e perché ho certe situazioni, no? Ma tutto questo dipende del vissuto di un'altra vita. Il karma è molto preciso e la reincarnazione mi offre lo specchio del creato, quello che il conto, cioè mi piace l'idea che sia un conto. E il conto è complesso, perché c'è un conto per ogni fascia della mia vita. C'è un conto per le finanze, c'è un conto per le relazioni umane, c'è un conto per la salute del corpo, c'è un conto per il lavoro. Ci sono delle persone che possono, per esempio, non avere nessun problema al lavoro, hanno bisogno di un lavoro, trovano un lavoro molto gradevole, geniale, che paga regolarmente, eccetera. Perdono quel lavoro e ne trovano un altro senza essere un problema. Ma questo semplicemente vuol dire che il loro karma è in quella direzione, cioè il loro karma, tra virgolette, con il lavoro è eccellente. Però queste stesse persone potrebbero avere una cattivissima salute. Vuol dire che il loro karma, a livello del corpo che loro vivono, che occupano, il loro karma non è stato così rispettoso verso la natura. E quindi il karma rispecchia esattamente quello che io ho creato. E così a tutti i livelli della nostra vita, è molto preciso. Cioè il karma ripropone nella nostra reincarnazione totalmente la giustizia. Uno potrebbe dire guardando il mondo di oggi, ma giustizia non c'è da nessuna parte. Dai, insomma, c'è chi vive o nasce benestante, c'è chi nasce senza niente da mangiare, c'è chi nasce, eccetera. E sì, e tutto dipende da quello che ha fatto nella vita precedente. Allora, ci sono tante cose stasera che devo andare veramente abbastanza velocemente. Per esempio, quando qualcuno lascia il corpo, come noi lo diciamo, tendiamo a dire lascia il corpo perché dà un'idea di quello che effettivamente succede. Vuol dire io me ne vado perché il corpo non è più vivibile. È anziano, o è malato, o è stato, è successo a un incidente, eccetera. Quindi il corpo non è più vivibile, quindi io lascio il corpo e ne prendo un altro. Allora, dal momento che io lascio un corpo e ne prendo un altro, sono consapevole di quello che ho fatto. Se in vita mia non ho mai fatto un esame di coscienza, in quel momento lì me la faccio. Cioè, insomma, è molto chiaro quello che io ho fatto. Diciamo, la legge del bene e del male mi avviene molto chiaramente e so quello che mi sto, diciamo, in qualche modo meditando. E mi reincarno in accordo a questo. Scelgo, l'anima che si reincarna, sceglie il proprio corpo. Noi scegliamo in accordo a quello che noi consideriamo sia in accordo al nostro carmo. Le persone che si reincarnano, e ci ricarniamo tutti, molto spesso si ritrovano all'interno della stessa ambiente, dello stesso paese, anche dalla stessa famiglia. Cioè, una nonna può ritrovarsi un nipotino, per esempio, nella stessa famiglia. Questo è totalmente concepibile. Non è possibile neppure quando c'è un conto carmico, cioè nel senso che noi ci siamo legati in qualche modo con un'altra anima, non è che le possiamo perdere, le troviamo. Le ritroviamo, ma sotto un altro corpo, che ovviamente non riconosciamo. Se io dovessi incontrare il mio padre adesso, che ormai è deceduto da un bel po' di tempo, non lo riconoscerei, ma potrei riconoscere e trovarmi molto al mio agio, perché io ho molto amato mio padre, stavo molto bene con lui, potrei riconoscere certuni dei suoi tratti di personalità, o sanskar. Allora, il sanskar sono le impronte che noi ci siamo creati, sono delle abitudini di personalità, il mio modo di essere, il mio carattere. Allora, questo potrei riconoscerlo, attraverso questi punti di sanskar. e potrei dire, guarda, ci assomiglia molto a mio padre, e trovarmi molto al mio agio con quella persona, e potrei essere disposta a lavorare con lui, o fare delle cose con lui, potrebbe essere una lei, oppure questo, cioè quando noi ci reincarniamo, non ci reincarniamo solo in un genere, cioè andiamo dall'uno all'altro, oppure di avere delle esperienze varie. Cioè, si può avere l'esperienza di essere un padre, o una madre, che sono esperienze profonde, molto gradevoli, molto belle, molto, diciamo, entusiasmanti da vivere, certamente, però non sono uguali. Allora, a volte siamo donna, a volte siamo uomo. Però se guardiamo il karma lì dentro, il karma anche utilizza questi metodi, e il karma è la legge spirituale. Dio non ci entra proprio per niente. Il conto karmico è mio, non è lui. E quindi tutto quello che mi succede a livello del karma sono stata io a crearlo. E se io ho un contatto con Dio attraverso la preghiera, o attraverso qualche religione, o una filosofia, o la meditazione, mi manda tanti buoni auguri, ma solo io a dover fare quello che mi compete fare, o vivere, sperimentare, o soffrire quello che mi compete. Allora, ammettiamo che in una vita passata sono stato un uomo un po' bullo, un po' aggressivo con le donne, per esempio, che noi sappiamo è molto comune, purtroppo, nel mondo di oggi, ma rinasco donna che viene picchiata. Non è gentile, non è gradevole. Ecco perché dicevo che il karma è molto molto preciso e la reincarnazione ci offre l'opportunità di effettivamente cambiare genere e sperimentare l'altra parte della medaglia. E ecco come noi troviamo un equilibrio e riusciamo a trasformare il sanska? Perché i sanska sono la cosa più importante e in tante delle nostre conferenze si parla di come trasformare il sanska. Cioè, io devo vedere e capire cosa è l'azione giusta da fare, che è a compassione, a misericordia, non è critica, è una visione di positività con l'altro, e cosa è negativo, e evitare il negativo. Se io evito il negativo, evito nella mia prossima reincarnazione che la negatività mi venga verso di me. E questo è in dubbio. Cioè, abbiamo una garanzia. Non siamo vittimi della sorte. La sorte perché noi non la capiamo, non capiamo reincarnazione, non capiamo il karma, diciamo, io sono nata così, è una brutta sorte. non è casuale, se potessimo, cosa che non è possibile, ma se noi potessimo guardare, vedere, proprio, aprire un libro e guardare il capitolo delle nostre vite passate, potremmo vedere, ah, sì, c'è stato quello. Quindi ecco perché c'è questo problema adesso, come il problema del lavoro che io avevo menzionato. Allora, tutto è molto accurato e tutto crea un contesto di perfetta giustizia. E come dicevo, non è Dio che giudica. Cioè, la religione a volte, non prendendo in considerazione la reincarnazione, non può vedere né capire che Dio non interviene in questo. Dio ci lascia libero di fare le cose le più elevate come fare le cose le più insensate e le più negative, se vogliamo, le più aggressive. è semplicemente l'equilibrio della giustizia che si fa. Il mondo è, a livello della legge del karma, che è una legge spirituale alla quale siamo soggetti assolutamente tutti, pure dicendo, ma io la legge la vedo diversamente, la puoi vedere diversamente, purtroppo, la legge spirituale è quella. Tu puoi pensare che la reincarnazione non c'è, quindi puoi fare tutte le cose negative che vuoi, perché intanto alla fine è finito. Quando ti reincarni, paghi la boleta. È una realtà. Cioè, è difficile essere iper gioiosi e positivi parlando della reincarnazione e del karma, perché sono legati, ma una cosa molto positiva è che se io onestamente faccio del mio meglio per sempre fare quello che io concepisco come il bene, avrò una reincarnazione in accordo a questo. e non è casuale che la mia reincarnazione poi dopodiché è positiva. Quindi c'è questa garanzia anche, di sicuro. quando per esempio delle anime io ho preso una serie di punti che dopodiché illustrerò quando un paio di anime che sono molto molto legate possono morire insieme per motivi di un incidente o qualche cosa così queste anime possono reincarnarsi in quanto gemelli perché uno può chiedersi come mai lì c'è una nascita gemellare e altrove no come mai i gemelli e non è casuale se dicono mai i gemelli si capiscono al volo hanno una comunicazione extrasensoriale sanno quando stanno bene quando stanno male questi sono anime che già arrivando in questi due corpicini identici quasi si conoscevano e quindi partono da una intimità di conoscenza l'uno dell'altro che tante persone non conoscono quindi ecco c'è sempre una risposta ecco quello che è carino con la reincarnazione del karma è che uno può trovare e capire la risposta accurata o la risposta che almeno ci dà una risposta soddisfacente perché uno potrebbe se no dire ma come mai come mai qualcuno nasce con un gemello ed è gradevole avere un gemello ma è molto probabile che quella persona in un'altra vita potrebbe essere il marito potrebbe essere la moglie certo nascono in questa vita e forse sono due maschietti o sono due femminucce e va bene non è un problema e il percorso delle anime insieme l'importanza è quello non il rapporto dei corpi che sono inerente a ovviamente al genere del corpo e alla cultura vigente e il il karma è sempre cioè la 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 reincarnazione è sempre in accordo al merito spirituale non è casuale cioè quando noi ci meditiamo a un certo livello qualche cosa di positivo come dicevo per il lavoro per esempio mi tocca un karma dove il lavoro per me è semplice è facile rimunerativo eccetera è gradevole invece se ho altri problemi dove per esempio ho dei dei scontri con le altre persone potrei avere dei problemi a livello affettivo ognuno di noi ha un conto carmico diverso in accordo con le varie situazioni di vita no e bisogna sempre lo ripeto Dio assolutamente non ci entra per niente cioè non possiamo dire Dio ha voluto che io adesso so paralizzata per esempio no Dio Dio non l'ha voluto c'è alle spalle qualsiasi handicap cioè come dicevo la legge del karma non è facile ma è una legge assolutamente chiara cosa ha fatto sì che mi avviene questo io adesso mi ritrovo paralizzata per esempio o altro ma c'è sempre un motivo karmica che io non capisco che non ho visto perché era in una vita precedente però se guardiamo la certe persone che diciamo conosciamo per esempio Mozart uno potrebbe dire come mai Mozart ha incominciato a suonare quando aveva cinque anni e componeva al pianoforte delle composizioni che erano assolutamente accurate con la grammatica musicale erano accurati non era solo suoni fatto da un bambino casualmente e lui nasce in una famiglia di musicisti che hanno riconosciuto subito il suo talento ma semplicemente perché Mozart nella vita precedente ha suonato è morto con queste conoscenze e quindi le ha espresse spontaneamente senza rifletterci su facevano parte dei sanskar che l'anima si è portata presso e quindi si esprime e tutti i bambini considerati prodigi sono un po' di questa mole ho avuto un amico tanti anni fa che con cioè con chi ho imparato a guidare la macchina stranamente era il mio insegnante di autoscuola e lui anni dopo ha avuto un figlio e questo figlio un giorno è venuto a trovarlo dicendo guarda papà la mia macchinetta cioè questi dinky toys queste macchine di metallo che uno doveva per forza spingere con la mano dice al papà guarda funziona da solo cammina da solo allora il padre dice ma sei sicuro che stai mi stai dicendo la verità che non è una grossa bugia questa ma l'ha seguito e lui dice no no viene da te e il padre entra nella camera del bimbo aveva verso i sei anni qualche cosa del genere vedeva stu tinky toys lentamente ma camminava a parterra padre che sta roba va a vedere e il figlio aveva connesso la macchina con delle batterie e dei fili elettrici il padre ha guardato e non capiva cosa aveva fatto l'unica cosa che funzionava ecco questo è un esempio di qualcuno che forse in un'altra vita è stato ingegnere gli è venuto spontaneo guarda cioè questo cammina se metto la batteria ci vuole una sorgente di energia e sì e il padre non sarebbe stato minimamente capace di farlo quindi questo è tantissime persone hanno questo tipo di esperienza e questi sono delle esperienze di vite passate cose che noi abbiamo già sperimentato che sappiamo fare che torniamo a fare con la massima facilità perché l'abbiamo già fatto quindi queste sono delle esperienze positive Mozart e questo bimbo che dopodiché è diventato ingegnere ovviamente e probabilmente non ci ha voluto molto funziona anche a livello negativo allora io potrei dirvi anche se ovviamente io per esempio Hitler non l'ho mai conosciuto ma secondo voi in accordo al karma che si è creato nella sua vita di Hitler cosa si merita? ecco allora voi vi ritrovate molto ovviamente davanti a un qualcuno che fisicamente probabilmente è molto a disagio sì ovviamente uno potrebbe dire poverino poverino sì poverino no insomma se conosciamo il passato possiamo accettare che è logico ecco è dovuto in qualche modo quindi visto che perdiamo le persone di vista e che non le non sappiamo più chi sono non ha più questo stesso nome ovviamente non siamo consapevoli di che fine ha fatto ma certamente ognuno di noi si porta presso quello che si è meritato e quindi ci sono delle persone che nascono in paesi estremamente a disagio dove hanno una grande possibilità di morire di fame nei primi mesi di vita perché allora non può pensare e lì di nuovo è sempre legato al karma che hanno fatto ma con loro per esempio mi ricordo che questa realizzazione io lo fece in Francia quando a un certo punto le agricolture hanno distrutto la produzione perché andava troppo e il costo si riduceva quindi tante persone hanno dovuto pagare un sacco di soldi perché la produzione un po' extra di quell'anno lì è stata distrutta pur di mantenere i prezzi alti allora fino a un certo punto questo è accettabile ma fino a un altro punto potrebbe non esserlo e quindi ok tu fai far la fame a una certa fascia di persone nella vita passata in questa vita tu farai fatica a mangiare e orribilmente onesto cioè insomma e non ci sono sotto banchi in un certo senso e benvenga perché vuol dire lì è la realtà è la verità tu non puoi dire ah ma sì lo so però insomma adesso ti ti faccio un sottobanco e tutto no neanche Dio può fare dei sottobanchi è molto chiaro con quello noi dobbiamo scendere separare Dio dal nostro calma perché lui non ci entra e questo è anche una un concetto che ha creato tanti problemi per Dio in qualche modo Dio è solo amore e se noi ti ritroviamo in un problema dove siamo per esempio malati fisicamente lui ci sostiene ci sostiene moltissimo con amore con buona volontà con con tutto quello che vogliamo di positivo ma togliere questo può fare dobbiamo noi soffrire è superare questo quindi allora un altro punto importante che noi non ci incarniamo in altre specie io ricordo essendo diciamo molto attratti verso gli animali io mi vedevo benissimo reincarnarmi in quanto delfino perché il delfino nuota io adoravo nuotare il delfino nuota è libero da morire non obbedisce a nessuno tranne se stesso vive in comunità dove si autosostengono e trovavo questo un miracolo quindi io pensavo sarebbe bellissimo vivere in quanto delfino invece noi ci incarniamo sempre nella stessa specie per motivi di questi sanskar allora questo l'ho capito quando con la mia gatta per esempio quando la mia gatta ha partorito ha partorito con me insieme dove stavo con lei e il primo gattino che è nato era molto grosso era grande e stava lì in mezzo non non gli lasciava molto spazio quindi io l'ho preso con due dita così e l'ho spostato gentilmente e questo qua era nato da un minuto o due con gli occhi chiusi eccetera ma si gira verso di me e fa dove l'hai mai visto questo chi te l'ha insegnato a te questo ma questi sono dei sanskar da gatto noi abbiamo dei sanskar da umano è chiaro e difatti di nuovo cioè sempre nella ricerca mentale io lo cercavo in un articolo di un giornale ho visto con delle fotografie dei bimbi neonati in sala a parto addirittura che si sorreggevano sotto le ascele così con le dita poggiando i piedi sul tavolo ovviamente senza peso questi qua andavano coi piedi l'uno dietro l'altro ma chi ti ha insegnato a camminare chi ti ha mai detto che per camminare bisogna mettere un piede davanti all'altro sì c'è una memoria di questo di un'altra vita il gatto non pensa in quel modo il gatto non fa delle cose allo stesso modo quindi noi rimaniamo all'interno della nostra specie e poi anche il nostro karma è all'interno della nostra specie quindi questo anche risponde a un sacco di cose allora altre cose noi non rimaniamo fuori dal corpo dopo la morte c'è uno che può pensare c'è una vacanza tra virgolette vado in vacanza no noi viviamo perché viviamo attraverso un corpo senza il corpo non è che l'anima smette di esistere sta sempre lì ma il suo modus vivendi è attraverso il corpo cioè agisce parla comunica fa delle cose e esprime l'amore per esempio eccetera quindi l'anima ha bisogno di un corpo e la situazione la più naturale è di reincarnarsi subito ma letteralmente subito dal momento che ho trovato il corpo adatto al mio karma mi incarno e probabilmente ci sono dei momenti quando lascio il corpo unicamente quando il corpo necessario è pronto ci sono delle tante cose che noi non possiamo mai immaginare che sono assolutamente perfette come come si incastrano se vogliamo l'anima con il suo corpo che contiene tutto il bagaglio karmico che si è creato nella vita o le vite precedenti e quindi se ci sono ovviamente dei forti attaccamenti a dei posti o a delle situazioni la storia del fantasma non è fuori luogo c'è effettivamente l'anima che non riesce ad accettare che questa vita sia finita quindi rimane in giro tra virgolette e questo esiste cioè non è che non esiste in certi posti è molto molto conosciuto e è molto normale si accetta volontieri però se uno per esempio c'ha in casa qualcuno così è sempre bene cercare di invogliarlo o invogliarla a reincarnarsi perché forse ci vuole un po' di persuasione deve essere persuaso di lasciare perdere perché quello che lui o lei ha conosciuto non tornerà perché gli altri sono andati avanti nella loro esperienza di tante vite e non non avere paura certamente dei fantasmi perché il fantasmo è solo un'anima che si è un po' perso per strada tutto lì allora la relazione dell'anima con la materia è profonda perché la materia mi offre un corpo che io non pago quindi carmicamente sono devo se vogliamo non finanziaramente perché la materia non è curiosa delle finanze ma li devo rispetto spiritualmente i soldi non ci entrano sempre i soldi sono molto carmici perché sono dei giolli rappresentano tutto quello che noi vogliamo a livello materiale però a livello spirituale per esempio io non potrei dire alla natura adesso ti pago questo corpo e così ne faccio quello che voglio non mi è concesso no devo rispettare quello che la natura mi ha dato che mi ha regalato con tanta di di bontà se vogliamo allora ovviamente se io rispetto questo corpo il corpo funzionerà se non lo rispetto o non l'ho rispettato avrò dei problemi a livello salute ecco allora molto dipende cioè noi abbiamo tutti o malamente o poco abbiamo sfruttato il corpo facendo fare il corpo delle cose che il corpo non voleva fare ovviamente perché il corpo non era sempre forse predisposto e il corpo facendo le cose che noi volevamo il corpo ci ha dato gioia ma non vuol dire che il corpo era contento allora forse abbiamo sfruttato un po' la materia e bisogna veramente ricordarsi di mantenere un equilibrio se noi vogliamo nelle nostre tante vite continuare ad avere un corpo in buona salute veramente è necessario e lì questo è proprio un rapporto veramente spirituale la materia sa la materia non è non voglio dire stupido non c'entra proprio niente non so non mi manca la parola la materia è consapevole e quindi la materia il mio corpo rispecchia il mio conto carmico e questo è importante io sono quello che sono in quanto anima e il mio corpo rispecchia quello che io sono dentro e quindi vuol dire che io devo essere veramente consapevole e prendere cura del corpo e dargli rispetto e non automaticamente pensare beh il corpo fa quello che voglio io se uno è pigro ed è quando uno è pigro non è il corpo che è pigro è l'anima che è pigra l'anima si deve darla a fare e forse il corpo ha bisogno di essere mosso forse il corpo ha bisogno di camminare un po' di fare un po' di esercizio allora è la mia responsabilità portare il mio corpo a spasso io l'anima perché lo sto facendo per il suo bene bisogna dargli da mangiare nella maniera la più equilibrata e non sfruttare quindi la mia reincarnazione dipende anche di questo equilibrio cioè è tutto molto 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 preciso allora in un corpo un ruolo può essere breve come può essere lungo e un ruolo vuol dire una vita o delle cose che io sto facendo in quella vita e quando io avevo verso 18 anni un amico mio che era un amico di infanzia da tanti anni da tanti anni noi ci vedevamo regolarmente lui aveva un paio di anni meno di me e noi eravamo legati dallo sport ci tuffavamo insieme e a 15 anni è morto sotto la doccia così la madre sconvolta ovviamente non ha capito perché era uno sportivo in piena salute è morto come loro dicevano all'epoca di idrocuzione non elettrocuzione ma idrocuzione aveva a che fare con l'acqua dalla doccia è morto allora lui si vede che aveva un ruolo specifico che doveva non durare più di 15 anni e si è trasferito in un altro corpo si è reincarnato per riprendere un ruolo che era più importante in quel momento lì ci sono dei momenti quando noi ci reincarniamo per motivi che non sono prettamente evidenti anche per chi conosce la reincarnazione e chi conosce il karma perché lì non capivo io perché lui di colpo sarebbe morto perché non era malato in nessun modo e noi vediamo queste cose che possono avvenire persone che di colpo muoiono e nessuno se l'aspettava minimamente e vuol dire che il ruolo è finito c'è un ruolo che doveva un conto carmico da scontare e questo conto ormai è pulito e la persona riparte a affrontare o vedere creare altri conti ecco e ovviamente quando avviene questo c'è c'è sempre un motivo non è ma noi forse non lo capiamo e poi come dicevo prima non si è eternamente né uomo né donna cioè insomma c'è sempre un equilibrio che si crea e questo a me mi ha dato tantissimi risposti quando ho incominciato a pensarci su come mai guardando sempre le mie proprie abitudini o sanskar io ho dei sanskar abbastanza maschili per una donna e è normale se io in una vita nella vita passata era un maschio e probabilmente sono morta io sono nata durante la guerra quindi probabilmente sono morta durante o morto durante la guerra probabilmente sono morto ucciso dalla guerra ma lo posso immaginare e quindi la mia vita è stata troncata in piena se vogliamo attività umana da maschio se io facevo la guerra no? e quindi mantengo con me dei sanskar molto attivi da maschio così mi ha risposto a tante cose d'altronde se io per esempio ho visto per esempio mia madre che è morta anziana tutto quello che era inerente alla sua femminità o anche ai tratti maschili che poteva avere o certi sanskar forti che lei aveva si erano quasi eliminati era diventata una persona anziana che funzionava in accordo con qualche cosa di estremamente semplice una base estremamente semplice e io vedevo mia madre prepararsi a una vita dove effettivamente poteva forse scegliere tra una vita maschile o una vita femminile perché non aveva un conto più da equilibrare io sono forse nata da donna perché avevo dei sanskar molto maschili che dovevano equilibrarsi con una vita femminile ma ecco perché dico tutto dipende di come e quando noi moriamo e in che stato di vita ci ritroviamo ed è una storia che raccontava mia madre che di fatti era molto inerente a questo discorso e che lei raccontava la storia della della nonna la nonna novantenne eccetera che si fa vedere la fotografia del nipotino ma la foto tradizionale del nipotino nudo sdraiato sulla sul divano di casa e la nonna guarda questa fotografia e dice se la memoria funziona questo è un maschietto allora mia madre raccontava sempre questa storia ridendo e sì ci sono delle cose della nostra vita che si eliminano col tempo e vedevo mia madre prepararsi molto serenamente a un futuro dove lei poteva veramente creare qualche cosa e non essere sempre a cercare di compensare perché è quello che c'era stato nella vita precedente quindi c'è un motivo per la quale morire anziani è una buona cosa perché ci deprogrammiamo in qualche modo cioè con i vostri nonni l'avete visto senz'altro vi siete resi conto di come funziona mio padre per esempio prima di morire era di una dolcezza incredibile difficile discernere è morto oltre ottantenne eccetera quindi allora qui a livello della reincarnazione sto guardando sempre i punti a livello della reincarnazione noi ci reincarniamo in accordo con quello che noi meritiamo come l'avevo già detto è molto importante e per esempio chi in questa vita fa un'enorme quantità di bontà di carità di donazione eccetera e prendiamo ovviamente di nuovo come con Hitler non conosco personalmente madre Teresa anche se l'ho incontrata però non la conosco però se considero quello che si dice di lei e quello che credo che lei abbia fatto cosa si merita morendo lei ha influenzato in un modo positivo una marea di gente tutti poveri e che lei ha sostenuto e ha accudito allora vuol dire che nella sua prossima vita una logica non dico che è così ma una logica potrebbe voler dire che lei nasce in una famiglia regale dove per posizione l'amore del popolo della gente gli è dovuto e uno potrebbe guardare i nostri esempi che abbiamo nel mondo di re e regine o principessi o principesse e principi come mai sono finiti lì perché non le vedo così elevati così perfetti eccetera eccetera e no hanno il loro karma con tutti quanti ma c'è un karma di sicuro che hanno perché perché ricevono già dall'infanzia un tale rispetto non è casuale non è casuale loro hanno un rispetto e sono anche protetti molto spesso sono protetti e quindi hanno una sicurezza della vita e tutto questo è ciò che loro si sono meritati quindi personalmente non mi sorprenderebbe minimamente che madre Teresa si sia reincarnata in una famiglia di spicco importante dove lei riceve tutto questo in ritorno a quello che lei ha dato riceve tutto questo rispetto da un vasto pubblico quindi ecco allora adesso vorrei vedere se ci sono un paio di domande effettivamente allora allora Patrizia dice ai molti anziani invece alcuni tratti caratteriali si inaspriscono e si cioè certamente perché è difficile essere pazienti per esempio e tranquilli quando si è con un dolore costante ci sono delle cose che uno può capire molto spesso uno non elabora sul dolore che uno sente o le difficoltà a vivere che ci irritano diventiamo forse meno tolleranti verso noi stessi e ovviamente chiunque viene intorno a noi sente questa intolleranza questo può avvenire con le persone anziane e si ecco vedi che William risponde si è vero e spesso è dovuto al fatto che si sono pagati molti conti karmici e l'anima stanca e spesso anche soffre delle sanskar che si espriscono solo nella vecchiaia ecco esattamente questo mi hanno detto che ci sono anche delle anime che si incarnano per la prima volta anche se sono poche ormai ma non avendo sanskara o debiti o crediti karmici come e dove si incarnano allora loro si incarnano con cioè bisogna vedere cosa si intende con anime nuove le anime nuove non sono cioè quelli pochi che rimangono sono pochi ma quando è nato mio padre e io ho guardato c'è un sito internet su internet che indica che numero di anime sei dai mi la tua data di nascita battilo dentro e te lo dico allora io ho battuto il mio nome e la mia data di nascita io sono nato il primo febbraio 41 allora il primo febbraio 41 io ero considerata l'anima due miliardi qua e là adesso siamo sette miliardi questi altri cinque miliardi sono tutte anime nuove allora io affascinato di questo ho guardato mio padre mio padre è nato nel 1894 quando è nato mio padre c'erano un miliardo un miliardo e 500 milioni eccetera eccetera quello che è un miliardo un'enorme differenza allora tra lui e me ci sono poco più di un miliardo e questi sono in 47 anni o 48 anni lui ma ha avuto a 48 anni però man mano che andiamo avanti la popolazione cresce quindi ci sono sempre più anime nuove che si incarnano presso a quelle anime che sono recenti e che non hanno molto sanskar molto sanskar negative assolutamente niente sono luminose sono anime che non meritano di essere una sofferenza quindi non si incarnano dove rischiano di morire di fame non esiste si incarnano in situazioni gradevoli dove crescono gradevolmente ma man mano che crescono ovviamente i sanskar cominciano a crearsi e alla fine della prima vita ci sono già un certo numero di sanskar e noi il motivo per la quale noi cambiamo per esempio il genere tra le varie incarnazioni mai facciamo più di due nascite nello stesso genere e questo per compensare i sanskar che potrebbero diventare troppo duri no loro si incarnano con grande facilità quando sono anime nuove quindi è tutto scritto nella pagina della vita dunque anche la morte certamente tutto quello che accade e questa è un'altra conferenza è tutto sul drama quello che noi chiamiamo il ciclo della vita certamente cioè tutto quello che noi creiamo e stiamo creando caricamente un qualche cosa ogni minuto ogni secondo quindi certamente tutto è molto molto accurato cioè non è che uno muore casualmente come mio questo amico che avevo da bambina allora sì abbiamo dei fantasmi forse si sono attaccati a troppo e hanno nostalgia di quell'uogo sì 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 ma assolutamente non c'è bisogno di avere paura di un fantasma ah beh insomma effettivamente l'ultimo animale in cui eravamo incarnati ma di fatti non ci siamo incarnati per niente in un animale come dicevo prima ma di fatti ci sono delle anime che degli animali che ci attirano per esempio il delfino perché mi ha tirato questa nozione di libertà sono dei motivi spirituali per la quale io ero attratto dal delfino la sua il suo comportamento gioioso ludico gioca la facilità l'ambiente lui vive in comunità che è molto strutturata quindi ci sono tante cose che mi piacevano tantissimo con il delfino ma motivi spirituali e non perché volevo avere la faccia del delfino per dire allora ecco questo ha spiegato a Teresa perché noi siamo attratti da alcuni animali e sì io sono attratta del delfino per quel motivo sono attratta del cane del gatto e di tutto il resto per altri motivi sì e i buddisti sì dicono che tutto è casual che nulla è casuale cioè nulla è casual non c'è caso tutto quello che accade è incredibilmente preciso ma facciamo fatica molto a a capire che è così preciso perché sembra che noi facciamo esattamente quello che vogliamo e tutto quello che succede guarda che casa che bello ho visto tali e tali ho incontrato tali e tali in persona non è casuale allora ecco e sì cioè insomma ci sono tante ispirazioni non è quello che ho detto Wendy ma come si spiega tante sofferenze fra bambini è quello che hanno fatto in una vita passata e certamente ci infastidisce perché il bambino che soffre e possiamo non capire perché non lo sappiamo non vediamo ma ci sono nel mondo di oggi si può dire molto tranquillamente tante persone che sono veramente malvagi e quelle persone a un certo punto muoiono e se reincarnano allora loro pagheranno questi gesti malvagi con delle situazioni quando sono piccoli che le mettono a disagio e noi vedendo il bambino pensiamo sempre ma innocente lui cosa ha fatto insomma non l'ha meritato questa situazione e possiamo solo dire questo se non capiamo la legge del karma e la reincarnazione perché non c'è una possibilità di sofferenza che noi non meritiamo questo la fa molto riflettere tutto quello che io vivo che trovo difficile perché guarda oggi ho dolore alla schiena va bene c'è un motivo allora ci può essere un motivo fisico ma c'è anche un motivo oltre al fisico e queste sono delle cose che ci fanno vedere le anime come persone che pagano il loro karma cioè noi al centro abbiamo avuto un paio di casi dove i bambini sono morti bambini di studenti c'è uno studente che è ornato dopo anni non l'abbiamo mai visto e lui ha fatto la sua vita si è sposato è venuto qui perché il bambino era morto e il bambino era giovane tantissimi molto giovane e era un bambino luminoso ma si vede che il ruolo che questo bambino ha svolto era finito doveva fare altre cose aveva altre cose in lista come un altro bambino che è nato dopo i corsi i genitori hanno fatto i corsi poi non li abbiamo visti perché il bambino è nato e poi di colpo mi hanno telefonato hanno detto guarda il bambino è nato però è nato col cuore totalmente forato ha avuto un intervento chirurgico ma dopo un po' di tempo il bambino è morto allora io ho il telefono che gli dici allora io ho detto ma come l'avete preso e il padre mi disse noi abbiamo capito la legge del karma ci siamo ricordati e vuol dire che questo piccolo è venuto da noi per pagare questo karma lui ha pagato ha sofferto è morto adesso ha ripreso un altro corpo un corpo sano dove lui potrà essere felice quindi siamo tranquilli pure noi io sono rimasta sbalordita mi sono detto meno male meno male che quel giorno lì che sono venuti qui hanno capito quello che voleva dire il karma e nel loro dolore ci hanno pensato perché questo le ha resi molto tranquilli si sono resi conto che il loro passaggio nell'esistenza di quell'anima del bambino l'ha aiutato gli ha permesso di pagare un karma che certamente era pesante che lui ha pagato velocemente perché non ha vissuto più di un paio di mesi e poi è andato avanti a fare una sua avventura e quindi ci sono tante cose così ok allora noi adesso abbiamo le 18 allora dici un uomo che ha fatto il bullo nasce una donna che subisce violenze non c'è mai caso se una donna e ci sono purtroppo tante donne il femminicidio esiste c'è motivo c'è un motivo purtroppo la legge del karma è molto dura cioè non è una legge tranquilla e come dicevo non ci sono sottobanchi quindi allora ma l'anima sa già quando si incarna a che età lascia il corpo no no l'anima non credo che lo sappia l'anima sa quello che è nell'immediato sa che deve prendere questo corpo e il corpo potrebbe essere longeve perché i genitori sono longevi e questo può essere anche diciamo una cosa che uno acquisisce della famiglia o allora può essere una vita che dura poco molto dipende ma non sa non lo sa e quindi noi a volte moriamo senza aspettarcelo e poi c'è chi vorrebbe morire e si aspetta di morire perché è malato c'ha questo e quell'altro e vedi caso i medici non se lo spiegano ma la persona continua a vivere cioè è importante l'anima più che altro la nostra per esempio la nostra direttrice che è morta a marzo aveva 103 anni ma da giovane da sempre da giovane è stata malata sempre malata ci ha avuto tutte le malattie possibili immaginabile e i medici non capivano come mai continuava a vivere e perché doveva vivere aveva un ruolo il suo ruolo spirituale era più importante nonché il corpo e il corpo ha sopravvissuto quindi ecco io vi lascerei su queste è stato molto intenso intellettualmente oggi purtroppo è così cioè è difficile parlare di queste cose se uno non diciamo ci riflette insomma ci sono delle cose la teoria è molto molto chiara che è una bella curiosità per l'intelletto perché l'intelletto non si annoia assolutamente ma bisogna fare l'equilibrio e io considero che voi se andate online da noi trovate meditazione letture spirituali trovate tante cose che sono molto meditative e quindi mi sono detto per una volta facciamo l'intellettualismo ecco allora intanto sono tante cose ma non riesco a vederli tutti e quindi io vi saluto vi auguro una buona serata con tutto questo e a un'altra volta om shanti allora qui vedo c'era anche però un karma dei genitori sì i genitori hanno il loro karma ma il karma dei genitori non è il karma mio ma il karma dei genitori può influenzare me come io se io nasco handicapato ho influenzato tantissimo il karma dei genitori perché ci hanno un peso sulle mani e viceversa ovviamente quindi quindi buonasera e om shanti spero vi ha risposto a qualche domanda è molto complesso ciao ciao